Come avevo detto in italiano, il Q&A è in italiano e in inglese, quindi per voi che potete chiedere domande in inglese, siete più che benvenuti a farlo, quindi ripetetevi la mano e vi darò l'opportunità di partire la conversazione con il direttore, il produttore e l'attore. La domanda questa qui velocemente. Garion, vorrei chiederti a te come rientro a Rianto e perché pensate di fare un film sull'interno? Sì, sono studiato in post-graduita per l'art school, e ho conosciuto con Rianto in solo art school in middle of Java, e poi ho collaborato con Rianto come dramaturgo per il suo cariografo. Ora Rianto ancora lavorato con l'Akram Khan company dance, con il titolo è Until the Lion, è diventato uno dei attori principi di l'Akram Khan company. E ho diventato due volte diventato di un choreografo. E poi, dopo che, ho avuto un'idea inspirato dal vita di un choreografo. Perché la choreografo è storia, la choreografo non solo personale, ma anche una presentazione social, anche una presentazione politica, e anche una presentazione religiosa. Questa è la prima idea che ho sviluppato in questo film. Sì, ho incontrato Rianto alla scuola d'arte, a Java, e ho collaborato con lui. Ho scritto per lui dei pezzi, delle opere teatrali per lui. Attualmente è in tour con la sua compagnia di ballo. Lo spettacolo che stanno presentando si chiama Andy and the Lion. E, appunto, è diventato uno dei personaggi più importanti della sua compagnia di danza. La mia idea è stata ispirata dalla vita di questo uomo, dal fatto che nel suo corpo riunisce femminile e maschile insieme. perché il corpo è esso stesso una storia e ci rappresenta in modo fisico, ma anche in modo politico e in modo mistico. Ci sono già domande da parte del pubblico qui in prima fila? Grazie. Prima il signore e poi... Vabbè, ok. Prima il signore... No, ok. Prego, prego. Catero Masullo. Allora, volevo chiedere se, diciamo, nell'ambito in cui è ambientato, quindi nella vostra società, se questa commistione in un unico corpo, diciamo, sia del genere maschile o femminile, è ben accettata o invece è oggetto di discriminazione. In questo film ho sviluppato due tipi di danza. Lengger e Riau. Lengger Lanang è la manganza, è erano giù.. giù un uomo ottenso, è erano giù un uomo ottenso, e varro è più un tipo tradizioni come se se un uomo ottengo, che si si riusciti il spirito o si riusciti il personaggio. Un couple, un couple. And queste due tipo di dan, ha ancora sviluppato molto forte nella sua casa, anche nella loro location. Ma con l'atmosfera del issue radicalismo in religione, then some problem happen because then they say this done is not or anti-religio and etc. It is why I present this film because in the history of Indonesian traditional value masculinity and femininity is part of the history but in the nowadays contemporary day with radicalism so become complexity issue and I will say that it is part of history in my country. In this film you see two types of dance traditional. One in which man is a woman and dance like a woman. Another type of dance in which the dancer, to get strength and strength, must create a male couple. dance like a woman and so they are two types of dance that are both very strong in the culture of my country. For this when I have watched this film I want to show you how now in the country the political political and religious that is dominating the country and oppose this traditional dance. Because they think it is anti-religio. dance like a woman. think that this type of dance does a part of the history but in the present it is a problem. The woman? All right. All right. First of all, thank you for this beautiful job. And thank you to the selezionatori che ce l'hanno proposto. La mia domanda in parte forse è accennata dalla risposta che ha appena esposto il regista e appunto la qualità profondamente politica del corpo evidentemente si riflette anche nella dimensione politica del film, quindi ci sono degli accenni nel suo lavoro, io non riesco a coglierli nella profondità e quindi le chiedevo se è possibile approfondire ulteriormente questo discorso della dimensione politica contemporanea del suo lavoro. Grazie. Yes, my question was partly already answered by the previous, together with the previous question, my answer refers again to the political quality of the body of the dancer and it reflects in the political nature of everything that happens in the movie. There are many signs of this political value of the body in your movie, but for us it is difficult to catch them completely. Could you please say something more about that? Yeah, I think body as political statement is not so easy to answer because body is also mysterious thing, something mysterious and also mystic. Body is history itself, body is library, is so many mysterious things. La sua è una domanda molto difficile a cui rispondere, è difficile fare una dichiarazione politica, quello che posso dire dal punto di vista della politica è che il corpo come ho detto prima è una storia in se stesso, un corpo è una libreria piena, una biblioteca di libri, una raccolta di libri diciamo e non è semplice sempre leggerlo e interpretare la situazione politica attraverso questa biblioteca di libri, ma è importante cercare di leggere il linguaggio del corpo che di per sé è estremamente misterioso e mistico. Un'altra domanda qui. Thank you very much for a really very subtle film. I was very impressed by the fact that even though the film was shot in a very realistic manner, it was real poetry from beginning to end. my question is, how is it that you succeeded so well in avoiding the issue of politics? For me it was always there, but it was very subtle, there was a very undercurrent that was there. I congratulate you for doing this, but could you make a comment about that? Because you have avoided altogether the fact that Indonesia is a Muslim country and Islam is not in this movie directly at all. and it takes place in Java, which is the heart of the country, I have two or three questions actually, but was it shot in one village or in several villages? Because the scenes seem to shift. Allora, la domanda del signore è, prima di tutto ringrazio al regista per il sottile approccio adottato in questo film, ed è rimasto sorpreso dal fatto che questo film, pur essendo estremamente realistico, è comunque pervaso di poesia dall'inizio alla fine. La sua domanda è per il regista, come si è riuscito in realtà secondo lui ad evitare totalmente di mettere la politica nel film, per quanto invece ci sia un filone sotterraneo di giudizio politico, perché questo film è girato in un paese dove domina l'Islam e l'Islam non compare in questo film e tra l'altro la domanda è anche se è stato girato tutto in un villaggio o se le riprese sono state fatte in più villaggi perché in alcuni casi la scena sembra cambiare. Allora, la scena di questo film è diversi villaggi, non solo un villaggio. Allora, la seconda cosa è la forma di raccontare la storia, sì, io sono molto preoccupi di sviluppo di sviluppo radicale dell'Islamo in Indonesia, perché oggi, per esempio, issue di musica è è haram, per esempio, wayang, papet, sedo è haram, per esempio, e con questo film l'Islamo di sviluppo di sviluppo radicale dell'Islamo in Italia, se non hanno capacità di interagire con il valore tradizionale in il nostro paese, o con il valore dell'Islamo in dell'Islamo in Indonesia, deve essere interagire con il valore dell'Islamo in Indonesia. E io ho cercato di raccontare la storia con la vita più di ogni giorno, non direttamente con la statement politica, perché con la vita più di ogni giorno, possiamo mettere la parola del valore dell'Islamo in Indonesia, non direttamente con il valore dell'Islamo in Indonesia, ma in diversi villaggi. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, l'Islamo si sta ampliando, sta guadagnando potere in Indonesia e tutto quello che riguarda l'arte, musica, danza, è haram, è impuro. Quindi se la religione, secondo me, non riesce a stabilire un contatto, a interagire con le tradizioni del paese, con il sincretismo, con i valori che questo rappresentava, secondo me è destinata a fallire. Nella storia mostro episodi della vita di tutti i giorni, perché secondo me è attraverso la vita di tutti i giorni che possiamo descrivere i valori importanti. Prima di ripassare il microfono al pubblico, volevo fare una veloce domanda ad IFA, esattamente proprio su questo tema, sulla questione di come affrontare certi argomenti in una società che sta diventando sempre più radicale e intolerante possa essere difficile nel momento di produrre un film. IFA, in questo contesto di creare l'integrazione e l'intoleranza, come si fosse produrre un film come questo, che si trattava sui sensativi problemi? Sì, I think the beginning, the most hardest part in Indonesia is how to make the idea like this happen, and it's possible to execute as a film. because I know there's so many good young filmmakers in Indonesia, and they have really strong statement, but in the country it's that's not that's of the strong idea is can be visible to execute as good yet. So, but after that movie is happen, the next hardest part is how to distribute this movie actually. So, yeah, until now we still, yeah, because this film is actually just finished before the finish, so actually that's our hardest part after this. I hope we can, but I'm really sure that I hope it can be released in Indonesia, even it's not easy. Yeah. Dice, la prima cosa difficile è rendere fattibile il progetto di un film, dal punto di vista della produzione. Ci sono tantissimi bravi registi in Indonesia, ma non sempre riescono a realizzare le loro idee, il loro lavoro. E la seconda parte difficile, dopo che il film è stato prodotto, è distribuirlo. Per ora il film è stato completato subito prima del festival di Venezia, speriamo veramente che possa essere mostrato e distribuito nel mio paese, anche se ci saranno difficoltà. grazie, grazie, grazie moltissimo per questo film. Mi faceva pensare questa danza appunto antichissima, storica, alla figura dell'Ermafrodito, cioè come appunto simbolicamente si cerchi un equilibrio fra queste due parti, femminile e maschile. Però volevo chiedere, dal momento che ho provato una dislocazione continua durante il film, osservandolo, proprio per la presenza della violenza, cioè c'è una violenza sottile che scorre. volevo chiedere, rispetto al discorso del traffico d'organi, volevo chiedere qualcosa di più specifico, perché appunto dalla grazia della danza poi si passa a un corpo che vende le sue parti. Grazie. First of all, I want to thank you, because I think you have faced this very sensitive subject of the emafrodite, which is partly male and partly female, and how it is important for him, her, to find this balance between the two parts. And then I would like to say something about violence, which somehow made me feel not at all at ease with the move, in the sense that there is this subtle violence that we see together with dancing, which is so sweet and so nice. We see this terrible violence. And also the images we see about organ trafficking. Why did you put together these two aspects? I think the world now is full of paradox between something beautiful and violence and live together, you know, live together. And I try to put them as a concept between something beautiful and ethical and something brutal and violent and non-ethical like that. It lives together and sometimes we cannot know the border of this in the contemporary day. And the second thing, because this film is start with the moment politic in 1965 that more than 500,000 people in Indonesia died because of killing faith. And that people say, if you become part of the Communist Party, then they're killing and become the killing faith. And this is totally, totally beyond the humanity, you know, and become brutal. It is why in this film, and you can see all the structure is something beautiful. In the end, it's become violent. In the world now, it's like this. We say in Iraq about anti-nuclear. But we use the violence to say about the anti-nuclear. Everything we try to dream about peace and beautiful things, we use the violence itself. And it is why all of us, we have the body trauma about the violence itself. And this film is present about the body trauma. We dream about a beautiful world, but every day is violent. It is why, you know, in the end, everything becomes blood. Everything becomes blood. The world is full of paradoxes. It is a unique paradox. The beauty is always accompanied by violence. They live together in our days. And it's why, in the film, I show this contrast between beauty and brutality. The violence, in this case, is not ethical. Sometimes it's difficult to distinguish between what is beautiful and what is violent. The second aspect of this film is related to the fact that it's ambient in 1965, that for Indonesia it was a terrible moment, dramatic moment. 500.000 people have been exterminated for political reasons. It was just the simple accusation of being communist. And they were killed. And this is beyond any human value. In this film, I put together, again, the beauty and the violence in its shape. We only think about the situation of Iran. Iran is a nuclear war. But we ourselves use the violence to stop them. And so, we live in this duplice world, beautiful and violent world, And so, we are bringing each other with us our own body trauma. Because each one of us has a trauma with which we live. One last question? No? Okay, please. One last question from the audience, very quickly. Allora, I wanted to compliment the protagonist of the film. My congratulations to the protagonist of the movie. I wanted to ask how he approached this role, if he already knew this type of dance, this type of figure, if he had done some lessons, if he also knew the choreographer. My question is about your approach to this role, whether you already knew about the choreographer, his story, whether you were able to dance before, or if you have started to dance because of the role you had to play. Sure. First of all, good evening, everyone. I would like to say that, actually, this is my first major film, my first big film. Prior to this, it has been my career work in the theatre production. And I'm not a dancer. So, yeah, it was quite hard for me to learn the dance, for example. And also, like, when I got the script, I had discussion a lot with the real dancer, Rianto. And also, I asked him about, what do you want me to embody this character? So, he told me, like, it's about, you have to represent masculinity and femininity in one body. And, but, but I don't want you to act like a sizey, but, you know, like, it has to do in equality, like, masculine and feminine in equality, something like that. So then, yeah, it was quite hard for me to learn the dance, because I do martial arts, so, for many years. And then, the movement, for me, like, really soft, and, you know, like, and every time I moved, the real dancer, Rianto, always said, like, God, you have to, you have to feel it from, from inside. Like, you have to, you have to imagine that you have, that you are a girl, that you are female when you dance this, because, so that's the most important thing. You can, you can learn the technique, like, every time, but if you don't feel it inside, so that it's, so, so then you don't get it. So then, so then, like, so I try to, to dress like a female, and then go to bed, and wake up in the morning with a dress, like a female dress. I try to put makeup on my face, or something like that, so just try to, to feel it, like, just try to feel that I'm a girl, I'm a female. So, yeah, yeah, for me, it's, it's really interesting, because it's my first time to be in a film. And, and actually, like, at the first day of the shooting, Garino Groho, he told me, because I was acting too much, I mean, I, I used to act on the stage, which is, like, really big, the dialogue, the gesture, and everything. But then he told me, like, can you have to be, um, how to say, like, you have to be softer, like, you have to keep all the expression, like, through your eyes. And it's not a theater, it's, it's a film, you act in front of the camera. So then I learned a lot how to act in front of the camera. Yeah, because it's my first time to be in a film, in a beautiful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for staying for the Q&A. Sfortunatamente abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Vi vorrei ringraziare per essere stati con noi per il Q&A. Ringrazio anche Garino Grohoi, Feis Fanshae, Muhammad Khan e Susanna. Susanna Penzo, per la traduzione. Spero di ritrovarvi all'ultimo Q&A di Orizzonti più tardi. Buona giornata. Grazie. Grazie.